Stamattina la notizia che i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria con l'ausilio dei reparti territorialmente competenti e il supporto dei carabinieri del NAS e dello squadrone cacciatori Calabria hanno tratto in arresto su richiesta della locale procura della Repubblica 9 persone di cui 3 arresti domiciliari, 6 all'obbligo di dimora nel comune di residenza e 1 all'obbligo di firma. L'accusa che grava su di loro è quella di essere ritenuti responsabili a vario titolo di commercio di sostanze anabolizzanti, commercio di farmaci superfacenti, somministrazione di farmaci dopanti per alterare le prestazioni agonistiche, ricettazione, esercizio abusivo della professione e somministrazione di farmaci pericolosi per la salute pubblica. Numerose sono state le perquisizioni eseguite in Calabria, Sicilia e Toscana e si è provveduto al sequestro preventivo dei beni mobili e immobili per un valore di oltre 100.000 euro riconducibili a due degli indagati in quanto ritenuti prodotto del commercio illecito visti gli accertamenti patrimoniali svolti dalla sezione di polizia giudiziaria e della guardia di finanza di Palmi. I destinatari della misura caudelare e degli arresti domiciliari sono Carmelo Gulli, 50enne reggino, preparatore atletico e sportivo, appuntato scelto dai carabinieri del ruolo forestale, Roberto Fazzari, 30enne di Polissena, preparatore atletico e sportivo, Felice Crupi, 43enne di Laurena di Borrello, gestore di palestra e commerciante. Dell'obbligo di dimora nelle comune di residenza sono Gianluca Cristian Garozzo, 45enne di Catania, Cristian Dosualdo, 49enne ungherese e rappresentante commerciale, Roberto Pepe, 54enne di Polissena, gestore di palestra e sportivo e preparatore atletico, Raffaele Amato, 36enne di Cinque Frondi, commerciante Giovanni Saccone, 27enne Fiorentino, all'obbligo di firma Giuseppe Foti, magazziniere e 26enne di Ferruzzano. L'operazione, denominata Ercole come il mitico dio della forza, viene alla luce da un'articolata attività investigativa, supportata da monitoraggi tecnici, analisi documentali e indagini tradizionali da parte della compagnia Carabinieri di Taurianova, con l'ausilio specialistico del NAS di Reggio Calabria e il coordinamento della procura di Palmi, diretta dal procuratore Ottavio Sferlazza. Il tutto prende il via nell'ottobre 2017, dopo il ritrovamento di un uomo di 40 anni di Taurianova, colto privo di vita dai familiari in casa. Inizialmente fu ipotizzato il decesso dovuto ad arresto cardiaco respiratorio, ma successivamente è emerso il sospetto che tale morte fosse connessa all'attività sportiva praticata dall'uomo nell'ambito del fitness e del bodybuilding. Di fatto, dalle indagini emerse, il quarantenne faceva uso di farmaci e sostanze anabolizzanti che gli avevano causato forti scompensi di salute e che l'uomo assumeva dietro prescrizione di un personal trainer, oggi arrestato. Trattassi di Carmelo Gulli, il quale con le stesse dinamiche e modalità anche successivamente dietro pagamenti e stessa alcuna competenza medico-sportiva, elaborava schede tecniche con esercizi pratici, abbinati ad una dieta alimentare che prevedeva l'assunzione di farmaci e sostanze dopanti al fine di migliorare le prestazioni agonistiche. Insomma, dei veri e propri guru, cultori del fisico, che pur improvvisandosi medici, farmacisti, dietisti, ammaliavano con il loro carisma apparente atleti amatoriali desiderosi di mutare il proprio aspetto fisico. Sequestrate 8.000 fiale compresse di farmaci anabolizzanti e stupefacenti, vendute a un prezzo che andava da 10 euro fino a raggiungere 400. Tra le sostanze più diffuse è il testosterone, il GH, il nandrolone, il trembolone, l'ostanazolo. Insomma, un fenomeno criminoso che ha coinvolto molti giovani che fanno uso quotidianamente di anabolizzanti, a tal punto da distorcere in maniera narcisistica la propria personalità, mettendo così a repentaglio la vita. L'operazione di oggi è la risposta che l'arma dei Carabinieri ha dato a parenti e amici di un quarantenne torionovese che nell'agosto 2017 è morto improvvisamente per presunte cause naturali. Le attività serrate svolte da Carabinieri e da Compagnia di Taurianova hanno fatto luce su una fitta rete di soggetti che commerciavano e somministravano farmaci anabolizzanti e stupefacenti a una grande platea di atleti, sia amatoriali che professionisti, e che venivano incoraggiati a consumare queste sostanze per o migliorare il proprio aspetto fisico in breve tempo, oppure gareggiare con più efficacia in queste competizioni sportive.